Si è conclusa ieri la trentunesima giornata nel girone C che consegna una fetta di Serie B ad una Juve Stabia straripante. A sette giornate dalla fine le Vespe di Pagliuca approfittano del passo falso del Benevento per portarsi a più nove sui Sanniti, superando l'ostacolo Taranto Almenti. Finisce 2-1 con un super adorante che fa tutto nel secondo tempo. Una doppietta bellissima del numero 9 che mette a segno il decimo centro in 12 presenze con il giallo-blu. Media pazzesca per il bomber ex triestina che dal suo arrivo a gennaio ha contribuito in maniera significativa alla cavalcata della Juve Stabia. A nulla serve il gol di Simeri per la formazione di Capuano che accorcia le distanze ma non riesce a trovare il pareggio fino al triplice fischio. Dopo 5 gare torna la vittoria del Picerno di Longo e lo fa in maniera roboante stendendo il Monterosi col pocherissimo. 5-1 al Curcio, apre le danze Sant'Arcangelo al minuto 39 e la raddoppia di inizio ripresa è firmato da Diego Albadoro. La reazione del Monterosi non si fa attendere, i Laziali riescono a trovare la rete per accorciare con Eusepi al 57esimo minuto di Laga. Poi la squadra Lucana che al minuto 68 segna il tris con Cico, il poker con Esposito al 75esimo e la manita al 90esimo ancora con Cico. Picerno al terzo posto a pari punti con l'Avellino, tre punti d'oro per la Turris a Liguori nel derby con la Casertana. Decide un gol di Contessa al 34esimo del primo tempo. I corallini accorciano a meno 4 dal Catania e continuano a sperare nella salvezza. Continua al terzo posto a pari punti con l'Avellino, tre punti con il tris con l'Avellino,